Il bello di giocare a rugby è giocare e non importa vincere, l'importante è giocare. Temperatura estiva a dispetto del calendario, gioia a mille e tanta voglia di rincorrere il pallone. La cornice è il mozzafiato Prato-Santa Caterina e in campo ci sono mini atleti del rugby. Vincere, far meta e avanzare e plecare. Abbiamo pensato di portare le nostre classiche manifestazioni della domenica mattina che facciamo a Due Danieli, abbiamo pensato di portarla in Prato per far conoscere a tutti qual è il nostro ambiente e andare fuori di casa e farci conoscere. Questo è l'obiettivo, far vedere il divertimento e l'ambiente che si crea nel gruppo Menti del Rugby. A me piace, è passione e inoltre c'è gioco di squadra. E' certamente la sfida di sempre ma siccome sono tutti amici veniamo volentieri e soprattutto la location è fantastica e penso che bisogna ripeterla sia qui che in altri posti. E poi noi siamo più duri, resistenti e il rugby serve più essere competitivi. Sempre con i figli che giocano e tra noi genitori è bellissimo trovarci e condividere questi momenti di sport e di amicizia. Quella di Prato Santa Caterina non è quindi solo la festa dei più piccoli ma anche di genitori e organizzatori. Abbastanza rinfresca queste giornate calde. E' faticoso anche guardare i figli, quindi bisogna un po' idratarsi.